Roma ancora movimenti al rialzo sulla rete carburante italiana, pur con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che tirano in fiato dopo la fiammata e innescata dallo stop di diverse raffinerie usa per l'uragano Arvi, benzina in ripiegamento e diesel senza scosse. Quotidiano Energia registra infatti una nuova sfilza di aumenti dei prezzi raccomandati delle compagnie, sabato stata la volta di IP, più 1, 5 cent sulla verde e più 1 sul gasolio, e Total Erg, rispettivamente più 2 e più 1 cent, e oggi di Tamoil, più 2 cent su entrambi i prodotti. Una pompa di benzina non solo per Perci ci sono anche da segnalare rialzi generalizzati sul GPL da 1 a 2 cent per effetto Dell'incremento dei prezzi di contratto di settembre Il prezzo medio nazionale praticato in modalitself della benzina torna cosa sopra 1.5 euro, a 1.509, mentre il prezzo medio praticato del diesel pari a 1.350 euro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato di 1.638 euro e per il diesel la media 1.483 euro.